... Davvero cominciando questi play-off in maniera autoritaria, la palla per Gentile cerca di battere White e questa è la dimostrazione di forza da parte di Milano. Si mette pressione, cerca di toccare la palla, arrivano i blocchi, ma anche da topi, di Marzola, i cambi difensivi, la palla per Medie, ma gran palla, c'è il fallo di White che dice io non mi sono neanche avvicinato. Milano adesso con pressione difensiva, gran palla direi per Ocaro White, si passa dietro. Cos'è d'arrivo anche dall'alto di Penetti, a Dup, facile facile per Frank Heidegar. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.